Oggi o vinciamo tutti o perdiamo tutti. Per questo riteniamo cruciale che la decisione del Consiglio europeo sia assunta entro luglio, quindi al più presto, e non sia svilita sulla base di una logica di un compromesso a ribasso. Buonasera, buonasera a tutti, buonasera da Rabusso e buonasera da Bruxelles, dove dopo domani si celebrerà un Consiglio europeo straordinario attesissimo e che dirà molte cose sul futuro sia dell'Unione sia del rilancio dopo il dramma del Covid. Le parole che vi abbiamo proposto in copertina le abbiamo scelte dall'intervento, dalle comunicazioni al Senato e al Presidente del Consiglio Conte. Dunque o vinciamo tutti o perdiamo tutti. Fare presto, fare presto, fare entro luglio. Stavamo commentando off the record, come si dice, proprio questo con i nostri ospiti che vi presento. C'è Daniela Rondinelli del Movimento 5 Stelle che ringrazio, ero parlamentare come ero parlamentare per Forza Italia, Salvatore De Meo. Buonasera. E ringrazio molto il collega Marco Bresolin, corrispondente della Priscia della Stampa. Do immediatamente la linea al nostro inviato su Palazzo Chigi, Segno Bonini. A te, Segno. Buonasera Donato. Fare presto, ma fare anche bene, rimarca il Presidente del Consiglio, che affonda sui valori condivisi il messaggio ai 27, a quei paesi le cui resistenze possono impedire un buon accordo attorno al Recovery Fund. Appuntamento a Bruxelles, dice il Presidente del Consiglio, dobbiamo avere coraggio perché a rischio c'è l'intero edificio europeo e scandisce di fronte a quei paesi frugali. Se qualcuno soccomberà, beh, gli altri non pensino di potersi avvantaggiare. Da qui scandisce più volte. Se si perderà, si perderà tutti insieme. Un Premier che si dice anche, certo, che a vincere non saranno anacronistici, afflati, nazionalisti, perché altrimenti vorrebbe dire ritornare a un piccolo mondo antico. Intanto, qui a Palazzo Madama, dopo l'intervento alla Camera, il Premier arriva dopo il pranzo di lavoro al Quirinale, con i Ministri, con il Presidente della Repubblica, Mattarella, ma arriva anche sulla scia della soddisfazione dell'accordo di un Consiglio dei Ministri durato sei ore, terminato all'alba, che sigla un'intesa attorno al futuro di autostrade. Dice il Premier ha vinto l'interesse pubblico e non l'interesse privato, rivendica i risultati, l'estromissione della famiglia Benetton, quei 23 miliardi di mancati guadagni ai quali la famiglia rinuncia, tariffe più equi, investimenti, manutenzione, sicurezza, un accordo che dovrà essere siglato nei prossimi giorni, ma che è certo un volta pagina per il futuro dell'esecutivo. Allora vi lascio con le parole del Presidente del Consiglio, pronunciate prima di entrare a Palazzo Madama e poi da dire tutto può tornare a voi. È un altro dossier che abbiamo ricondotto, come dire, alla ragione, diciamo così. Noi ci preoccupiamo di tutelare l'interesse pubblico, non degli slogan. Ci interessa la sostanza. Allora, ovviamente torneremo sulla vicenda del Consiglio dei Ministri che si è protratto fino all'alba di questa mattina, con questa ipotesi di accordo, di public company, per quanto riguarda le autostrade, ma adesso un primo giro ovviamente lo facciamo su questa antivigilia del Consiglio europeo. Comincio a lei, Rondenelli, come sempre lei lo sa, facciamo un primo giro stretto, anche se ovviamente senza limitarci nei contenuti, perché poi avremo molte cose di cui parlare e molte cose da proporre ai nostri telespettatori. Allora, fare presto e fare anche bene. Sono due cose che spesso non coincidono. Secondo lei questa volta è possibile? Ci possiamo sicuramente approcciare con uno spirito ottimista, ma l'impresa penso che sia alquanto difficile, perché è un consiglio storico nella misura in cui è la prima volta nella storia dell'Unione Europea dove tutti i paesi europei devono condividere un accordo sulla gestione di diverse decine di miliardi e di come vengono reperite, di quali sono le condizioni alle quali i paesi possono accedere. Quindi noi sappiamo, anche perché ha toccato con mano in questi mesi, i negoziati a livello europeo sono sempre piani di insidie e di trappole, quindi prevedo che sarà un negoziato non certamente facile. È chiaro che per quanto riguarda il governo italiano e anche noi come Movimento 5 Stelle abbiamo dei paletti sotto i quali non si può assolutamente andare, quindi innanzitutto la questione dei tempi. Penso che i paesi frugali faranno di tutto, anche nascondendosi dietro a tecnicismi, di posticipare questo negoziato nelle settimane a venire. Questo noi lo dobbiamo impedire, dobbiamo assolutamente chiudere l'accordo entro luglio. Secondo, dobbiamo prevedere un meccanismo che ci consenta di reperire queste risorse e utilizzarle entro l'anno, perché non c'è tempo di aspettare per il prossimo anno. E secondo poi anche un discorso di progettualità, che come governo italiano siamo assolutamente pronti per presentare il nostro progetto di rilancio del paese. Torna nelle parole di Daniela Rondinelli, onorevole De Mea, uno dei grandi temi, perché qualunque decisione prende il Consiglio, poi l'applicazione nel senso dei trasferimenti finanziari non arriverà che con l'inizio del prossimo bilancio pluriannale, e quindi a partire comunque dal 2021 vedremo poi lì, diciamo così. Però il tema che impone l'onorevole Rondinelli è quello di che cosa fare nel frattempo. Ovviamente le chiedo questo perché è una suggestione importante, ma le chiedo anche di rispondere nel merito sulla previsione di come andrà. Assolutamente, io credo che ci sia la consapevolezza della drammaticità della situazione. La presidenza tedesca può essere un valore aggiunto in questo momento per esercitare la sua autorevolezza e quindi confidiamo che il lavoro di negoziato che è stato fatto dalle rappresentanze in questi giorni e che è ancora in continua evoluzione possa portare un risultato al più breve tempo possibile. Forza Italia in questo ha anche chiesto alla Merkel di poter trovare una soluzione all'interno del negoziato che consenta almeno di anticipare alcune risorse rispetto a quello che è il quadro finanziario pluriannale che sarà oggetto ovviamente di un'altrettanta negoziazione. Quando si parla di fretta ovviamente non possiamo soltanto chiedere la fretta e l'accelerazione dei tempi agli altri. Io credo che lo stesso governo italiano debba accelerare ulteriormente, deve essere pronto, non può attendere l'estate, la crisi non va sicuramente in vacanza e quindi è necessario che il confronto con tutte le forze politiche e sociali debba essere immediatamente intrapreso, non rinviato, non portato sotto forma di informativa ma deve essere concreto perché riteniamo che possa essere un modo per risultare credibili e verosimili ovviamente agli occhi dell'Europa. Molte grazie. Allora Marco Brisolin, ovviamente il fatto che il Consiglio europeo più importante degli ultimi anni, dopo un periodo che di fine drammatico è poco, coincida con l'inizio del semestre di presidenza dell'Unione europea da parte tedesca e quindi con la cancellera Angela Merkel in qualche modo, beh, non soltanto affare da anfitriona, ecco direi questo, è un fatto molto importante. Quanto importante? Probabilmente decisivo perché ricordiamoci che i leader europei andranno a Bruxelles venerdì dopo che in questi mesi non si sono mai visti di persona. L'ultima volta si erano visti il 21 di febbraio dove si erano lasciati con un non accordo proprio sul bilancio dell'Unione europea. Ci erano stati due giorni intensi di negoziati ma non si era arrivati a un accordo. In quel vertice Angela Merkel è rimasta un pochino silente. Anche in quell'occasione ci erano stati i paesi frugali che avevano puntato i piedi e siano opposti a un bilancio diciamo più sostanzioso. Si diceva che Merkel in quei giorni giocasse un po' a fare il membro ombra del club dei frugali. Quindi dietro le quinte non aveva spinto molto per arrivare a un accordo. Credo che venerdì la situazione sarà molto diversa. Abbiamo visto in queste settimane che Merkel ha speso il suo capitale politico per cercare di arrivare a un accordo sul recovery fund e credo che nel chiuso della stanza dell'Europa Building farà il possibile per convincere i suoi colleghi, soprattutto quelli più riluttanti, a cercare di cedere un po' dalle proprie pretese, dalle proprie linee rosse per arrivare a un compromesso. Molte grazie. Allora, introduciamo l'intervento del nostro corrispondente da Vilsal Ghevino Moretti con le parole pronunciate oggi in un punto stampa con i giornalisti italiani dal commissario agli affari economici dell'Unione Europea, Paolo Gentiloni, ancora sul recovery fund. Ci sono le condizioni per raggiungere un accordo. Magari non venerdì, magari sabato, magari domenica, ma io penso che sia un dovere per i capi di Stato e di Governo concludere questa reazione positiva delle istituzioni europee a questa crisi con un'intesa sul recovery fund. Non siamo a una specie di fondo salvastati 2. No, questo è un fondo di ripresa che deve essere gestito con un metodo comunitario. Rondinelli? Io penso che rispetto a quello che ci si aspetta sarà un negoziato difficile anche sulla partita del recovery fund, nel senso che noi sosteniamo che non si potrà andare al di sotto della proposta della Commissione, quindi sia sulle risorse che saranno erogate a fondo perduto, sia ovviamente sul prestito. Noi abbiamo la necessità di chiudere al più presto questo accordo perché lo dobbiamo sicuramente ai 100.000 morti che ci sono stati in Europa, quindi dobbiamo assolutamente dare una risposta coesa a livello di tutti i paesi rispetto a un'emergenza che veramente l'Europa non aveva mai fronteggiato. Chiaramente ci troviamo in una situazione dove questi pregiudizi io personalmente non li sento, anzi sento che il governo italiano si è apposto a questo negoziato con molta fermezza. Abbiamo tutte le carte in regola per portare a casa un ottimo risultato. È chiaro che è una trattativa che si complica anche rispetto a tutto quello che può generare dal punto di vista delle garanzie e delle condizionalità. Non dimentichiamoci che affronteremo un accordo che riguarda il reperimento di risorse attraverso una condivisione dei rischi e quindi con titoli di Stato. È un'esperienza assolutamente nuova per l'Europa. L'Italia in questo ha giocato un ruolo fondamentale quindi è un risultato importante che portiamo a casa e non lo possiamo assolutamente disattendere. Sulle tendenze che i paesi frugali cercheranno di ostacolare questo negoziato credo che sia lampante, succederà e noi da questo punto di vista dobbiamo essere bravi a condurre un negoziato all'altezza del nostro paese. Noi andiamo subito al Senato dove si sta concludendo il dibattito andiamo ad ascoltare l'intervento del Movimento 5 Stelle con Perilli e l'abbiamo fatto ovviamente prima che cominciasse la bussola con gli altri. ...deguità delle persone e se ci sarà da accertare una responsabilità come tutti i cittadini pagherà davanti a tutti ed è da accertare. Quindi è impossibile parlare di provvedimenti ai cittadini ma lo so che vi danno fastidio, guardate le parole sono frecce sono frecce, se arrivano arrivano però è questa la realtà è la realtà perché se uno ha la pazienza di andarsi a scartabellare le cose vi renderete conto che non ha senso citare dicendo l'amore per la patria tra l'altro questo paese, consentitemelo, è già nella prospettiva della rinascita è già un paese che vuole ritornare alla felicità e lo sapete perché è libero? Perché è libero dal loro governo è già libero. Allora, Presidente io la invito a continuare a sostenere a nome di quel popolo che la sostiene per tutte quante le azioni che lei ha saputo anche comunicare al paese di portare avanti queste azioni che vanno nel riperimento delle risorse che saranno a beneficio di tutti anche di coloro anche di coloro che in questa sede stanno cercando di sminuire la portata non solo del suo governo dell'Italia ma di tutti quanti i cittadini ai quali loro asseriscono di saper parlare al cuore ma non è così Allora, possiamo tornare in studio vi abbiamo fatto sentire le parole del Movimento 5 Stelle perché ovviamente prima che questo lo chiedisco per i nostri ospiti prima che cominciasse la bussola sono stati fatti altri affacci come si dice in gergo tecnico su chi ha fatto le dichiarazioni per gli altri partiti ti tengo fuori da questo giro Marco perché un'ultima domanda per te rapidamente la vicenda autostrade la direzione che molto chiara che mi pare abbia preso il governo la soddisfa mi deve fare un titolo lungo Rondinelli non un intervento mi soddisfa nella misura in cui finalmente nel nostro paese abbiamo raggiunto un dato politico mi pare molto importante che il bene comune lo sviluppo del paese è prioritario gli interessi di multinazionali come è quello della famiglia Benetton che appunto mette al primo posto profitto piuttosto che ripeto lo sviluppo del paese è inaccettabile che ci siano delle aziende nel nostro paese che non si preoccupino della sicurezza delle persone che approfittino della situazione guardi credo che sia davvero odioso per qualsiasi cittadino italiano che abbia una coscienza civica quello che è successo i Benetton si sono macchiati di una pagina non molto felice per quanto riguarda il nostro paese quindi sono molto d'accordo con questo accordo voglio dire io non sono una chinesiana una liberista a tutti i costi però ci sono effettivamente degli asset strategici per il nostro paese che non devono essere privatizzati a tutti i costi quindi una presenza di maggioranza dello Stato in questa società secondo me è quanto mai giusta per la sicurezza delle persone e soprattutto anche per una sostenibilità dei pedaggi molto Marco Bresorin collega corrispondente della stampa da Bruxelles come ringrazio l'onorevole De Meo di forza dell'onorevole Rondinelli del Movimento 5 Stelle domani vigie del Consiglio Europeo sono due giorni giovedì e venerdì estremamente importanti vedremo se la discussione e forse potrebbe essere anche un bene si protrarrà fino a domenica con un eventuale esito nel frattempo grazie del seguito la bustola non perdetela buona serata e a domani